Il 2021 è stato un anno difficile per tutti, difficile come il 2020, se non più del 2020, in cui anche il Consiglio Comunale ha dovuto rivedere tante dei suoi processi, le iniziative, le modalità con cui ci si confronta, le modalità con cui si lavora. E non è stato un anno malvagio perché abbiamo approfittato di questo tempo proprio per rimodulare tutto. Abbiamo cercato di fare tutti i consigli comunali in presenza, da ottobre 2020 si tengono comunque in presenza, purtroppo non in quest'Aula, ma abbiamo approfittato di questa assenza per fare un restyling tecnologico dell'Aula che consentirà già dal 2022 di poter usufruire dell'Aula in maniera totalmente accessibile. Ci saranno le sottotitolazioni, ci sarà la possibilità per gli utenti, per i cittadini di seguire in maniera indicizzata, cioè sapere in quale momento è intervenuto il consigliere e qual è il lavoro del consigliere che ha svolto in quel momento. Un Consiglio Comunale che si è caratterizzato tantissimo anche per l'attività politica, una delle attività politiche più vincenti, a mio parere, è stato l'Ordine del Giorno del San Benedetto, di cui sono stato promotore. Come sapete l'ex manicomio, il San Benedetto, è stato oggetto di un infinanziamento molto importante da parte dello Stato che l'amministrazione ha presentato e grazie a un'unità di intenti, forte anche di questo Ordine del Giorno, un risultato importante è stato portato a casa con oltre 45 milioni di euro, di cui una bella parte ha disposizione per la riqualificazione del San Benedetto. Il progetto Laureati in Comune, abbiamo, come ricorderete tutti, tanti ragazzi e tante ragazze che si dovevano laureare, qualcuno si laureava da casa, qualcuno in cucina, qualcuno in salotto. Abbiamo messo a disposizione la Sala del Consiglio per potersi laureare. È stato eletto il garante per le persone con disabilità, Marusca Palazzi, Ma veniamo quindi al 2022, nel 2022 in cui siamo riusciti a progettare tante iniziative, è una presidenza che si vuole contraddistinguere nell'attività politica il più diffusa possibile e nell'attività di partecipazione anche questa il più diffusa possibile, proprio per questo motivo ho chiesto ad Aspes di aiutarmi ad organizzare un ciclo di conferenze formative e informative che consentano a coloro che vogliono avvicinarsi o vorranno avvicinarsi alla politica e magari candidarsi nelle prossime tornate amministrative di poter partecipare alla vita politica e quindi di avere i contenuti. Concludo con una cosa molto interessante, anche qui un lavoro, una progettualità del 2020 che abbiamo voluto portare avanti, abbiamo dovuto portare avanti solo nel 2022, hanno aderito 360 bambini, ovvero più di 25 classi delle elementari e delle medie, al Comune va a scuola, un progetto di elaborazione grafica ma non solo, andremo nelle aule, andrò nelle aule delle classi delle elementari e delle medie che hanno aderito a spiegare cos'è il Consiglio Comunale e come funziona.